Confina sia una struttura ideata e resa operativa per venire incontro alle esigenze dei clienti, ponendo la consulenza assicurativa al centro di tutti i criteri operativi, molto prima che tali criteri venissero richiesti quali indispensabili da regolamenti comunitari o da regolamenti del settore assicurativo italiano. La possibilità di avere più mandati o compagnie di primo livello operanti a livello internazionale, una nuova struttura dotata di ampi spazi pensata per accogliere il cliente, con un orario unico di lavoro, parcheggi predisposti sia sulla via principale che nell'ampio parcheggio retrostante, mette pienamente in evidenza la nostra volontà di porre il cliente al centro di tutte le nostre attività. Tramite una costante formazione, strumenti informatici all'avanguardia ed una presenza capillare sui territori nei quali operiamo, siamo convinti di poter portare a compimento e a soluzione tutte le problematiche assicurative che ci vengono sottoposte dai nostri clienti. Riteniamo di poterlo fare con una qualità e una tempistica che solo chi è dotato di più mandati di compagnie generaliste ma anche specialistiche può fare. Gli stessi servizi e gli stessi strumenti informatici dall'avanguardia che mettiamo a disposizione anche gli operatori del settore che decidono di sceglierci come partner. Una qualità dunque del servizio e della consulenza assicurativa che non sono chiaramente paragonabili a strutture dotate di un singolo vangato e nemmeno paragonabili a coloro che invece si affidano solo e soltanto ad internet o ad un telefono per contattare i propri clienti. Confines, probabilmente il miglior posto per le tue esigenze assicurative, finanziarie e previdenziali. Grazie. 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 Grazie.